Opere realizzate quasi in fretta, con la frenesia di concludere e la preoccupazione di dire tutto senza dimenticare nulla, realizzate con materiali disparati e accostati in modo ardito, su fondi trovati nei gritti dei torrenti o riciclati dagli scarti industriali, con tecniche quasi impossibili da descrivere e individuare. E quanto l'artista Camuno Giuliano Pe, originario di Fraine di Pisogne, espone allo spazio torco l'arte di Via di Mezzo a Pisogne, con un percorso tematico meditato e raccolto negli anni, dedicato all'olocausto, alla Shoah, alla violenza dell'uomo sull'uomo, al cumulo di miseria e dolore che la feroce umana nei campi di concentramento delle fosse comuni dei fili spinati ha espresso in modo terribile e vergognoso. Soprattutto su questi lavori cerco di utilizzare meno colori, o comunque colori molto poveri. Non posso proporre delle immagini di questo argomento con dei colori vivaci e anche il materiali stessi sono materiali addirittura di riuso, di riciclo. Vogliamo anche dimostrare che comunque si possono fare delle cose discrete con del materiale povero e soprattutto anche i ragazzi che oggi, se non hanno per le mani tutte le cose, l'ultimo grido, devono cercare di fare qualcosa pur accontentandosi di avere poco per le mani, come ci siamo accontentati noi ai nostri tempi. Le origini di Giuliano Pe, i suoi ricordi dell'infanzia, il tanto lavoro duro visto nella piccola frazione di montagna fin da bambino, gli tornano alla mente in continuazione e gli fanno dipingere con le mani e con i pensieri ricorrenti questa epopea della sofferenza e della vita dura. Io sono nato in un paesino in montagna, in questo paese ho visto la sofferenza delle persone delle anziane che lavoravano con i volti scavati, magri, che lavoravano la terra, che lavoravano col bestiame. La sofferenza è stata la fonte di mia ispirazione e sono tutti questi ricordi che io continuo a rimuginare nella testa. Non sono assolutamente negativo, anzi il mio è un ottimismo sempre. Io cerco soprattutto per i ragazzi di far vedere questo lavoro per far sì che si cerchi di migliorare la condizione del mondo. È chiaro che l'olocausto che è rappresentato in questa mostra è una grande sconfitta per l'umanità e soprattutto è una cosa che non dobbiamo assolutamente dimenticare. La mostra di Giuliano Pe al Torco L'Arte di Via di Mezzo a Pisogne ha un nome emblematico e forte, l'inferno in terra. È stata presentata questo giovedì sera da Magda Stoffler che ha tracciato anche il profilo tecnico-artistico dei lavori e dell'artista. È visitabile da lunedì al sabato dalle 17 alle 19.30, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30 con ingresso libero e gratuito.